Mattio? Eccoci, siamo qua ancora con Marco, ciao Marco Ma che poi mi prende in giro, lui lo fa apposta perché è una merda Lo fa apposta poi per tirar fuori tutte le... Sì, certo Voi vi approfittate, sulle mie spalle fate il vostro successo Allora, siamo qui con Rita Un applauso! Grazie Anche la tenda lo voleva Non voleva ascoltare Cosa sta succedendo? Ah, è caduta la tenda Ok, va bene Allora, facciamo una cosa Giriamoci tutti verso la tenda Così almeno guardiamo cosa sta succedendo Allora, siamo qui con Fabrizio No, non siamo qui con Fabrizio Siamo... Torni indietro Cos'è la fatta delle impreviste, eh? Le tende, le casse, il vero di oggi Con l'essenziale un applauso ad Alessio Pinato Alessio Pinato E per il resto ti fiamo per le pull Per le pull È impegnata il 18 febbraio in una serata al golf caffè Maria Rita No, non è vero Leslie Guzman E Luca Zeppa Complimenti ragazzi Prova, prova, prova Dove vado? Vado inizio? Cioè vado parto? Dove vado? Sono bellissima Mi guardo e penso che Che senso abbia Che succede? Che succede? Che è successo? Si fermò qualcosa? Che è successo? Chris, raccontaci cosa è successo Tu che hai visto tutto Tu che ne sei testimone Ah va bene, ricominciamo Ricominciamo, ok Ci riproviamo Ci riproviamo C'è un po' bellissima Che il mondo è quello che La gente dice di me C'è un po' bellissima Mi guardo e penso che Che senso abbia Ah mannaggia C'è un problema alla base Mi sa Perché se lo facciamo Per due volte di fila Vuol dire che c'è qualche problema Alla base Allora Facciamo un applauso a Mariah 18 voti L'altro concorrente Ha ottenuto 23 preferenze Vince Questa puntata Non ha ancora vinto Aspettiamo un attimino Già facciamo i vincitori Aspettiamo Aspettiamo